Ancora vandalismi, ancora bravate giovanili che sconfinano ai limiti della microcriminalità. E ancora una volta ad essere preso di mira è il quartiere di Vismara. E in particolare il parco di quartiere tra via Basento e via Lambro, dove ci troviamo ora e dove nella notte tra martedì e mercoledì c'è stata una serie di danneggiamenti, dalle telecamere di Velte a danneggiamenti alla centralina elettrica, ai bidoni, fino alla distruzione della Little Free Library, la piccola libreria della Onlus Gulliver che sarebbe dovuta essere inaugurata il prossimo 10 di novembre. Una situazione problematica che continua da tempo e sulla quale si è espresso così il presidente di quartiere Claudio Salucci. Un disastro, dalle telecamere rotte che sorvegliano il parco alla casetta che dovevamo inaugurare il 10 di novembre con il Gulliver che ce l'aveva donata la casetta per la libreria e hanno rotto con dei petardi importanti anche dei contenitori della spazzatura. Hanno rotto anche sotto il gazebo dove abbiamo fatto questo gazebo per fare in modo che la gioventù, i ragazzi si possono un attimino riparare d'inverno anche per migliorare il parco e tutto quanto, ma purtroppo questo è un parco che deve essere sorvegliato di più e con le telecamere che ci sono e queste persone che vengono prese anche se sono minorenni, in qualche modo dovremmo fare qualcosa per fare pagare o ai genitori o a loro se sono maggiorenni perché non è possibile che noi del quartiere o il comune debba sempre sopperire a questi atti vandalici che purtroppo qui in zona succedono tutti i giorni. Tutti i giorni noi abbiamo delle problematiche, troviamo delle biciclette rotte, ci sono dei segnali anche qui vicino rotti, schiantati, penso alla notte di Halloween perché ci sono dei segnali dell'attraverso i pedonali che qui nell'arco di 100 metri gli attraversamenti pedonali non ci sono. Con questi ho un bastone che adesso abbiamo portato via, era un palo, hanno divelto le telecamere. Io mi auguro che chi di competenza questa volta riesca a trovare qualcuno o a vedere chi è stato perché tanto chi è andato vicino anche per romperle io penso che le telecamere ve le abbiano ripresi.